Un minuto di spoiler Non è la tua prima volta al Carly Film Festival, vero? Sei un resident anche tu Esatto, è la mia seconda volta e sono veramente super felice di essere stato nuovamente selezionato al nostro festival Molto bene Senti Nino, se tu sei pronto e hai capito come funziona un minuto di spoiler, io farei partire il cronometro Quindi Nino, 3, 2, 1, parte il tuo minuto di spoiler Una via nel buio è una storia fatta di manicanze, di assenza di luce Infatti per offrire questo al mio pubblico sono partito dalla cosa più bella e lucente che esista, credo, la natura La natura è una cosa così limpida, così bella, così importante che ospita l'uomo da sempre Attraverso la natura l'uomo deve esprimere se stesso Ciò che gli manca, quindi sia le sue luci ma anche le sue ombre, quindi il suo buio Non possiamo fare a meno di indagare la natura perché tutto ciò che è nascosto, ciò che è nella nostra ombra Prima o poi riemergerà, ecco, io credo di aver girato una cosa che comunque possa aiutare le persone a mostrare anche i lati più nascosti Molto bene, grazie Nino, sei stato perfetto in questo minuto di spoiler Noi sai che di Radio Academy ci siamo sempre in sala stampa anche quest'anno al Carlo Film Festival, quindi ti aspettiamo Grazie mille per l'invito, non vedo l'ora di venire al festival Grazie anche a te e buona giornata, buon proseguimento, ciao Nino Grazie a voi Ciao, ciao, ciao 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 Ciao